Salve a tutti ragazzi bentornati qui sul mio canale, io sono MrCamp17 e oggi siamo qui su FIFA 16 per uno spacchettamento Sì, ebbene avete capito bene, io sono qui per spacchettare, pensavate l'ultima volta fosse stato l'ultimo spacchettamento Invece no, oggi abbiamo la squadra della settimana che non è male, la squadra TOTS dell'MLS che era l'ultima che mancava E i FUTTIS, quindi oggi dobbiamo trovare per forza qualcosa di mega galattico, ma non è tutto, non è tutto signori Tanto guardate che giocatori che ci sono fuori dal normale, assolutamente fuori dal normale Ma ci sono i pacchetti, aspetta un attimo, i pacchetti da 50.000 FUTTIS, signori E di questi ce ne andiamo a aprire 10 e poi aspetteremo che metteranno qualche altro pacchetto molto sfizioso per andarlo a spacchettare Partiamo subito con il primo pacchetto e ce lo andiamo subito a guardare Devi dare subito qualcosa Secondo pacchetto, ce lo scripiamo, boom! Con Pianici della Juventus Con Pianici della Juventus, con Colce e Nick, con Gerard e con Kagawa Kagawa Allora, le mandiamo tutte e quattro a vendere Vediamo, ok Perfetto Mi sa che oggi va male, siamo partiti molto male Quarto pacchetto, primi tre pacchetti vergognosi Se lo guardiamo questo, ci dà una merda Era meglio se non lo vedevamo Pekovic e Evra Gibbs Oh, Ezequiel Niente, siamo già arrivati a metà Quinto pacchetto Da 50.000 Vediamo, difensore centrale Buono, Chiellini, niente male, assolutamente Buono, poi Leno Andiamo subito a vendere, Leno Ok, oh, Basanta della Fiorentina Oh, Mendy Mendy dell'Eister Andiamo subito a vendere Insieme a Chiellini Vabbè, Mendy è in quinto pacchetto Oh, definizione giusta Adesso avevano un'86 e ha spiegato spesso almeno qualche giro Allora, vedete di lui Adesso MENZI NO MENZI NO NOOOO NOOOO No 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 O MOY GOD DAMN Oh signore Dio, abbia pietà della mia vita, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, guarda che roba, Messi e De Bruin Futis, mio santificato signore! No, 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 qui non ci siamo, qui non ci siamo, qui non ci siamo No, non ci siamo, non ci siamo assolutamente, grande capo a Meniche anche, lo andiamo a vendere grande capo, mamma mia! Messi, guardate sono io, primo proprietario, 31 luglio, mio santificato signore! My God ragazzi, my God damn it! L'abbiamo trovato al sesto pacchetto, io l'avevo detto che Chiellini ci avrebbe rimesso nella carreggiata giusta con quell'86 overall e mi ero stupito che non ci fosse stata una carta speciale in quel pacchetto E dopo, Messi e De Bruin Futis! What the hell? Andiamo avanti signore, andiamo avanti con il settimo pacchetto Io mi sento male, sto sudando ragazzi, io sto sudando Già è caldo, è un'altra volta Chiellini! È Nani! Futis! What the hell? My God damn it! Signori, sta sfociando nell'inumano questo pacchetto a me, nell'inumano! A zizio! Mi porta fortuna a zizio! Mentre che Lini invenita è quel fottuto di Nani! Futis! My God! What the hell? What the hell? Andiamo avanti, guarda che è meglio ragazzi! Questo me lo schifo eh! Questo schifo! Vediamo che è il bloccaggio di Pippa! Vediamo, ho potuto caricarti brutto questo pacchetto! Ma no, lo guardiamo! Oh my God! Clock Buttons! L'avevo detto che lo stava caricando parecchio sto pacchetto! My Lord! Sweet baby Jesus! Gomez della Fiorentina! Non si sa come mai! Ah, perché è rientrato dal prestigio! Ancora! Ezechiel! Ah, guardate qua! Pissellone! Drukba! Pox! My God! Gomez della Fiorentina lo mandiamo in vendita perché c'è sempre stato del basic class quest'anno! Quindi magari qualcosa ci possiamo ricavare! Ma non sono gli ultimi due pacchetti! Ma signore, mi sa che dei pacchetti hanno 3-2 dopo questi due eh! Se ne finiamo tutti qui! Perché qui stiamo svoltando nell'inumano! Oh my God! No! 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 What? Mamma mia no! No! Ma dato che che bambano! Il che bambano riempare su tutti! E i Red di Agodon sentiamo veloce! Nello stesso pacchetto! Ma qui! No! No ragazzi! No! 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 Qui c'è qualcosa che non sta quadrando Qui c'è qualcosa che non sta quadrando Perché con tutti gli spacchetti di eventi Che abbiamo fatto quest'anno Che ci hanno fatto fare 5-6 spacchettamenti Di merda in fila E ora me li sta dando tutti nell'ultimo spacchettamento Di quest'anno E' una cosa illegal Guardate qua Leno iperbuggato Tiago Silvia, Tiago Dolce, Tiago Veroce Il re con lo scentro che fa le streline che luccicano E poi Riedma Ness Nello stesso baghetto footies What the hell Che cos'è? Cosa sta accadendo? Questa settimana Ieri l'altro ho pubblicato il video del top national team Algeria What the hell Ma cosa sta accadendo? Cosa sta Realmente accadendo Signori Tava Lonzo Ok Sembra di essere tutto tornato alla normalità Abbiamo trovato Cricoviat del Paris Saint Germain Xavi Alonso Mica Olic Che è andato a giocare In serie B Tedesca Nel Monaco 1860 Allora signori Dato che Come stavate vedendo Sto Perdendo la ragione Mi mancano Altri 2000 FIFA Points Mi potrei aprire gli ultimi due pacchetti footies Dato come sono andati Gli ultimi cinque pacchetti Abbiamo spacchettato Poi magari La prossima settimana Io vi volevo portare Uno spacchettamento di code Dove c'erano le nuove armi Tra l'altro c'era il mio Peacekeeper Che l'ho amato Ci ho giocato un anno intero Su Black Ops 1 Sì su Black Ops 2 Scusate Sto perdendo Completamente la ragione Con questi spacchettamenti Potrei portarmi Un altro spacchettamento Dei footies Proprio A metà settimana Della prossima settimana Ok Io vado ad aprire Gli ultimi due pacchetti Perché Non ci può lasciare così Non ci può lasciare così Web Ok Si è calmato Bra Bra white Lo mandiamo in vendita Tra l'altro Dovebbe essere Spostato Cioè un giocatore Comprato Nuovo Per Per quella squadra lì Che ora Ragazzi Non ci sto proprio la testa Ultimo pacchetto Puttis Ultimo Casillas 84 Niente Si è calmato Si è calmato Biabiani Non lo mandiamo a vendere Niente Si è calmato Quindi Signori Io Spero che il video Vi sia piaciuto Ho perso Tutta la mia voce Guarda Proprio perché siete voi Ragazzi E ci tengo A questo spacchettamento Mai visto Mi apro un pacchetto Con 50.000 Miei crediti E andiamo Con l'ultimo pacchetto Con Trap Era meglio Se lo risprendevo 50.000 Perché ci ho proprio Rimesso male Ci ho proprio Rimesso male Assolutamente Ci ho rimesso male L'ho preso nel culo Ma Va bene Lo stesso E quindi Signori Come ho già detto Spero il video vi sia piaciuto Lasciate un like Lasciate un commento Se Credete che Dopo questo video Mi prenderanno infarto Probabilmente si Sarà così Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto E io vi invito A farmi vedere Che ci tenete Che la prossima settimana Vi porti un altro spacchettamento Dei footies Lasciando Tantissimi like Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Senior Alla prossima Alla prossima